Attilio Romita, Pamela Prati, Giaele Detonà. Questo è il dilemma, signori. Stasera scopriremo chi dei tre uscirà, ma prima di inoltrarci a dire quel che devo dire, assolutamente nei commenti potete cominciare a farmi sapere chi vorreste voi vedere fuori da questa casa e magari brevemente spiegare anche il perché. Comunque, siamo giunti ormai all'ottava settimana di reality ed è ora di far uscire qualcun altro. In nomination ci sono Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele Detonà e naturalmente negli ultimi giorni, a parte la Prati, che non si è quasi sentita affatto. Gli altri due hanno dato vita a diverse discussioni, più o meno complesse e dibattute. A tirar fuori i primi sondaggi ci ha pensato Novella 2000, che come di consueto ha deciso di chiedere ai lettori del magazine e i fan del programma di andare proprio a votare. A votare quindi i vari sondaggi e scegliere chi dovrebbe uscire dalla casa. Certo, non è che decide Novella 2000 chi uscirà dalla casa, però cominciano i sondaggi. Da quel che riporta il giornale, a dover lasciare il programma sarà Pamela Prati. La Showgirl ha raccolto il 50% di preferenze, come mostrato anche dalla grafica che troverete online. Online? Nel web? Nei siti, insomma, dove ricercherete. A seguire Giaele Detonà con il 29% e concludere infine con un mitico Attilio Romita, che si salva con il 21% di voti. Per Novella 2000 dunque sarà Pamela Prati ad uscire dalla casa, ma voi ci credete a questa cosa? Come di consueto, Novella 2000 va a paragonare i suoi sondaggi anche con quelli di Reality House. Secondo il sito, l'eliminata di questa puntata sarà appunto Pamela Prati, la quale ha raccolto il 25% dei voti, meglio Attilio Romita con il 29%, mentre sarà sicuramente Salva Giaele Detonà con il 46%. Sembra quindi non esserci più di tanti dubbi al riguardo, anche stando al sito in questione, la vippone eliminata sarà appunto Pamela Prati. Naturalmente si tratta di sondaggi, sondaggi tutti fatti a sé, che non c'entrano niente con il vero programma, che non prendono in questione l'intero pubblico del grande fratello VIP di questa edizione. Ma solo il televoto di stasera potrà veramente confermare questi risultati. C'è anche magari curiosità di vedere se veramente Novella 2000 riesce nel suo intento. Proprio in queste ore, una brutta battuta di Attilio Romita, e questa non ci voleva, che ha fatto su Oriana Marzoni potrebbe ribaltare la situation. Il giornalista si è sbilanciato con la nuova concorrente e i suoi discorsi stanno un attimino facendo il giro del web. Ma per lui poche parole di approvazione, anzi, quale parole di approvazione? L'uomo infatti nelle scorse ore si è lasciato andare e ha fatto un brutto scivolone sulla nuova vipona, che era meglio non faceva, che però ha fatto. Tutto è successo mentre l'uomo era in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. E vabbè, questo è il quanto. Intanto vi ringrazio, prepariamoci per la diretta di stasera. Per quanto mi riguarda è tutto, ci sentiremo alla prossima news, sempre su Pausa Caffè Live. Ciao a tutti e buona giornata!